eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi e buona giornata come sempre vi invito per supportare il canale a lasciare un bel mi piace per farmi vedere il vostro apprezzamento al video ed iscrivetevi per non perdere tutte le prossime novità sul mondo di call of duty poi se volete supportarmi in maniera ancora più importante vi ricordo ogni volta che dovete comprare un videogioco nuovo una gift card un abbonamento un credito digitale troverete dei prezzi pazzeschi su eneba il primo link in descrizione utilizzatelo sempre ogni volta che farete un acquisto supporterete il mio canale come ogni volta che farete un acquisto sul mio canale dell'offerta di telegram dai andiamo verso i 400 iscritti supporterete anche qui il canale tramite l'affiliazione ma anche quando dovete comprare una qualsiasi altra cosa su amazon anziché aprire l'applicazione passate al canale delle mie offerte questo veramente per sempre cliccate su un link appunto che trovate visto aprirà amazon con mio link affiliazione cercate il prodotto lo comprate anche in quel modo supporterete il mio canale ma partiamo perché ho diverse chicchette per voi e parleremo anche di un cod cancellato quindi i rumors e le x che avevo riportato tante settimane fa erano reali come vi dico spesso le mie fonti sono veramente belle gustose ma intanto il team di call of duty ha annunciato ieri sera che a conoscenza di un problema che causa leggero disallineamento ottico con il fucile di precisione morsa che potrebbe far mancare i colpi che sembrano centrati sul bersaglio la loro dichiarazione è stata abbiamo programmato il rilascio di una soluzione a questo problema in un futuro aggiornamento del gioco ma infatti vi avevo detto che l'arma era completamente sballata uccidevi in maniera completamente randomica alcune volte facevi delle kill incredibili alcune volte l'avevi completamente preso ma mi savi completamente il colpo vi terrò aggiornato intanto ieri sera altro annuncio da parte di activision che ha detto che lo scorso fine settimana ha bannato 27.000 account per cheat il team inoltre ha dichiarato che sta procedendo con una nuova serie di aggiornamenti di sicurezza e prevede che arriveranno altre ondate di banna come sempre attendo il vostro feedback a riguardo fatemi sapere sempre la situazione che riscontrate nelle partite inoltre per tutti coloro che mi chiedono sempre informazioni sullo shadow banna shadow banna loop e quant'altro ragazzi non vi posso dare una risposta perché activision non ne parla né fa annunci non dice nulla quindi purtroppo ragazzi mi piacerebbe darvi qualche bella notizia anche sulla questione shadow banna come funziona perché venne shadow bannata anche gente legit e quant'altro ma se non dichiara nulla activision ragazzi non mi posso inventare le notizie nel frattempo call of duty ha raggiunto questa domenica il picco massimo di giocatori dell'anno su steam superando la bellezza di 166 mila giocatori quindi l'arrivo di questa stagione 3 e direbbe ardaland ha portato numeri importantissimi all'app di call of duty intanto secondo quanto riportato da damanier centepsleaks ci sarebbe una nuova mappa guerra chiamata fusion a quanto pare in arrivo su mv3 al momento non è programmata sembrerebbe per la stagione 3 perché non è stata riportata nella stagione 3 né per quanto ricorda la roadmap dei contenuti e della reloaded potrebbe arrivare probabilmente nella stagione 4 vi terrò aggiornati stagione 4 che dovrebbe avere tantissime novità già nei giorni passati vi avevo annunciato qualche chicca bene nei file di gioco alex ha trovato nuove stringhe che confermano l'arrivo di tre armi molto importanti come sappiamo il bal 27 è stato nuovamente trovato nel file di gioco ma sappiamo che arriverà a metà stagione quindi a maggio arriverà l'arma di advanced warfare nella stagione 4 al momento sono programmati l'arco lo spas 12 il pompone e il car 98 il cecchino uno dei cecchini più amati degli ultimi anni per quanto riguarda call of duty quindi vi terrò aggiornati a riguardo preparatevi queste saranno le novità prossime ma parliamo ragazzi un attimo di quello che è successo in queste ore che cosa è successo praticamente un ex sviluppatore di call of duty di raven software ha rivelato nuovi dettagli di un zombies di un call of duty zombies standalone cancellato da call of duty c'è stata praticamente questa praticamente intervista tra michael gulmet e la youtuber zombies glitch and queen zombies nel senso perché tratta principalmente quella tematica e quindi sono uscite fuori delle bombe nucleari adesso vi dico tutto quanto nel dettaglio che è stato poi riassunto anche da tom enderson sul suo portale insider gaming che ringraziamo praticamente questo call of duty che doveva uscire ed era solo e soltanto zombies ecco perché vi dico stand alone era stato sviluppato tra il 2011 e il 2012 ma in realtà praticamente non è mai entrato in produzione quindi a quanto pare non ha mai superato i documenti di progettazione e praticamente adesso vi dico tutto quello che al momento è stato trapelato di questo call of duty come sempre ragazzi me ne avevo già parlato tempo fa e diversi insider ne avevano praticamente confermato l'esistenza ma call of duty ovviamente non ne parla mai delle cose progettate cancellate rimosse e quant'altro vedete tipo degli ultimi anni che fine ha fatto la mappa dei monti urali che era attesa con cold war anziché appunto verdansk 84 quindi è stato sviluppato dal 2011 2012 ma non ha mai superato i documenti di progettazione quindi non è mai entrato nella fase di produzione sarebbe stato completamente supportato e aggiornato come gioco live service il gioco aveva microtransazioni online con la personalizzazione non era un porting diretto di vecchi zombies quindi praticamente era un qualcosa di proprio nuovo non è che avevano nuovamente preso roba vecchia rimasterizzata rimodellata e quant'altro era roba nuova è stato costruito con la tecnologia online e del code online Treyarch non sapeva se volevano continuare con gli zombies a causa di alcuni problemi che c'erano dietro ad una situazione prima appunto dell'uscita di black ops 2 quindi gli hanno detto a raven software pensateci voi quindi praticamente a quanto pare è stato passato il testimone alla raven software di fare questo titolo stand alone si poteva giocare da 1 a 4 giocatori e aveva anche una mappa a quanto pare del mondo si iniziava come un gladiatore all'interno di un'arena per combattere gli zombies in un'arena e poi praticamente a quanto pare si inscenava una sorta di fuga si poteva iniziare ad esplorare il mondo aperto per combattere gli zombies e ottenere delle ricompense ovviamente c'erano tantissimi personaggi e una progressione personalizzabile per quanto riguarda l'arena l'arena era a round mentre per quanto riguarda le parti aperte della mappa mondo qui invece dovevamo avere le classiche ondate quindi doppia e diversa gestione avrebbe avuto le stagioni con nuovi contenuti in un certo momento sembrerebbe che la trailer che voleva fare un passo indietro non voleva appunto la concorrenza di raven nel mondo di zombies quindi sembrerebbe che in un certo momento la trailer che avrebbe voluto riprendere in mano il progetto e alla domanda se ci fossero stati altri titoli stand alone di zombies se Gullmet ha risposto non che io sappia quindi sembrerebbe che al momento questo sia stato l'unico code zombies stand alone che era stato appunto pianificato ma purtroppo cancellato poi ovviamente se volete proprio qualsiasi dettaglio di tutta questa intervista trovate il video direttamente sul canale di Glitch & Queen ne sono tantissimi minuti di approfondimento questo è un recap generale delle novità più interessanti ma fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate lasciandomi un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi ci vediamo alle 14 live e domani per un nuovo video